Musica Potenta pa ragazzi, qua ho Axelogic, oh my god oggi sono da sole e sono qui senza voce come ormai potrete venire a presentarvi un video veramente speciale per voi Perché infatti questo qua è sicuramente il mio più grande e forse il più grande giveaway che si possa fare su tutto FIFA 14 Perché infatti oggi sono qui a presentarvi il giveaway della leggenda più forte o meglio del giocatore più forte di tutto questo gioco Pelé, pelé leggenda con queste statistiche fenomenali ma innanzitutto ci tengo a dirvi il motivo di questo mio giveaway Perché ragazzi allora innanzitutto per ieri ho fatto uscire il pink pile e vi avevo chiesto 10.000 mi piace per appunto farvi uscire questo giveaway Ovviamente non li abbia raggiunti però abbia raggiunto gli 8.351 che secondo me è un traguardo comunque fantastico Quindi ho detto i miei iscritti lo vogliono e facciamogli E secondariamente lo faccio perché come avrete potuto ben vedere non lo utilizzo moltissimo questo giocatore Quindi è meglio darlo ovviamente a qualcun altro se poi questo qualcun altro mi ha iscritto è veramente il top Comunque partecipare è semplicissimo innanzitutto volevo ringraziare Ergasmic HD che è il mio grafico per avermi fatto l'immagine che state vedendo E secondariamente volevo salutare il mio amico Mazza Comunque bando alle cianci torniamo a parlare del giveaway Il giveaway per le leggende per partecipare bisogna fare tre semplici cose Per prima cosa bisogna essere iscritto al mio canale Per seconda cosa bisogna avere messo mi piace e aver aggiunto i preferiti a questo video E per terza ed ultima cosa bisogna aver commentato questo video Solamente ragazzi c'è un problema perché infatti come voi ben sapete tutte o meglio le leggende sono disponibili solamente su Xbox Xbox può essere Xbox One e Xbox 360 Quindi ragazzi fortunatamente posso passare questo Pelé sia su Xbox One che su Xbox 360 Questo perché? Perché ho un amico che nel caso in cui il vincitore sia o meglio giochi su Xbox 360 Mi presta il suo FIFA per appunto passargli questo giocatore Quindi possono partecipare tutte le persone che vogliono ma ovviamente il vincitore dovrà essere o su Xbox o su Xbox One oppure su Xbox 360 Questo perché? Perché non posso passare Pelé ad un giocatore che magari gioca su Play dato che su PlayStation non ci sono ancora queste leggende Quindi ragazzi mi raccomando partecipate in tanti Partecipare come ho già detto o meglio come ho più volte detto è semplicissimo Facciamo un piccolo resoconto per partecipare bisogna essere iscritti al mio canale Bisogna aver messo mi piace e aggiunto i preferiti a questo video E bisogna commentare questo video Inoltre quando scadrà questo contest? Quando scadrà questo giveaway? Ragazzi oggi è il 16 settembre del 2014 Io vi do 3 giorni, vi do 3 giorni per partecipare a questo giveaway Mi raccomando commentate solo una volta perché io andrò poi ad estrarre lo sfidante Con un sito che si chiama se non mi sbaglio su adeo.ch Quindi mi raccomando partecipatevi La scadenza è il 19 Cercherò di far uscire direttamente il 20 l'estrazione Quindi ragazzi detto questo io vi saluto e vi dico potente A palacene dal prossimo video Bolla! E vi ricordo che se siete interessati a vedere i video di Call of Duty Di passare dal mio secondo canale che si chiama Oaxelv2 E vi ricordo che si chiama Oaxelv2